Ed ora in Valdega, nella provincia autonoma di Bolzano, dove neve e notte hanno trovato il modo di mettersi d'accordo. L'area turistica che riunisce i tre comuni di Nova Ponente, Nova Levante e Colle Pietra e i due comprensori sciistici di Obereghe e Necarezza offre infatti agli sportivi l'opportunità di solcare le piste anche di notte. Impianti aperti fino alle 22.30 e numerose iniziative di contorno completano l'offerta per i turisti e gli amanti delle discese notturne.